rassegna stampa di giovedì 19 agosto 2021 ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fanno TV sul canale 17 allora partiamo subito con il santo poi vediamo il tempo e naturalmente i giornali il santo di oggi è San Giovanni Eudes il sole è sorto alle 6 e 16 e tramonterà 7 minuti dopo le ore 20 adesso andiamo a dare uno sguardo al tempo e lo facciamo con trebimetro.com e con questa immagine dell'Italia in tutta la sua grandezza allora vediamo la situazione delle 6 di questa mattina mezzogiorno vedete soltanto qualche temporale qua e là nel centro Italia ma per il resto per la nostra regione c'è poco da dire anche domani vedete venerdì 20 agosto non c'è molto a mezzogiorno c'è sulla catena appenninica soltanto qualche pioggia ma per il resto la costa adriatica marchigiana sarà interessata dal bel tempo anche sabato queste sono le previsioni di sabato vedete andiamo a vedere le temperature invece per la giornata di oggi allora le temperature queste sono quelle della mattina vedete le marche intorno ai 22 gradi fa un po' freschino questa mattina poi comunque nel corso del pomeriggio l'Italia si colore di rosso acceso e quindi con temperature che saliranno addirittura sopra i 30 gradi ma adesso andiamo subito a collegarci con se arriva l'immagine eccola qua con il nostro Giovanni dal lago che è collegato da Fano la spiaggia è una spiaggia riservata anche ai cani quindi è una come dire una novità per quanto riguarda il panorama delle spiagge una novità non tanto per i fanesi perché la conoscono ormai da 5 anni come ci raccontavi buongiorno Giovanni allora vedo che sei in buona compagnia questa mattina buongiorno sì buongiorno a tutti presenti siamo già attivi guarda qui che roba allora presentaci un po' di ospiti dici qualcosa allora qua abbiamo subito dei dei turisti che sono venuti a fare il bagno con proprio il cane e invece anche dei paneggi doc con dei cuccioli come macchia che quel cane bianco che vedete andare su verso la passerella ecco spiegaci una cosa Giovanni quali sono le regole qualcuno ci ha chiesto ma insomma come in questa spiaggia quali sono le regole da osservare perché diciamo che abbiamo la fortuna di poter fare sempre il bagno con il cane e questa è una cosa fondamentale per rinfrescare il l'amico a quattro zampe una delle regole fondamentali è quella di di tenere sempre il guinzaglio infatti vedo che adesso quasi tu no tutti ce l'hanno ecco vedete sono tutti con il guinzaglio quindi sono ecco macchia se in sicurezza ecco presentaceli un po dai qualche secondo sì abbiamo macchia che è un cucciolo di cinque mesi di un mix bianco bellissimo bravissimo e sta crescendo poi spiaggia con noi quando è arrivato inizio stagione era poco più di due palmi ecco poi vedo che qualcun altro invece taglia molto più grande e insomma questi trascorreranno questa giornata di mare insieme a voi qui a Dani Malido appunto che si trova a Fano bene allora intanto oggi il tempo sarà buono c'è poco da dire insomma l'abbiamo appena visto il tempo sarà buono fresco ancora questa mattina ma poi nel corso del pomeriggio supereremo i 30 gradi giusto sì sicuramente il tempo sarà buono si sarà si starà benissimo al mare perché la temperatura è proprio ideale molto bene allora Giovanni grazie a te grazie ai tuoi ospiti buona giornata e buon lavoro noi adesso andiamo a leggere i titoli delle notizie più importanti dei quotidiani il resto del carino del Corriere Adriatico edizione di Pesero Urbino cominciamo dal il carino di Pesero la fotonotizia per Valentino Rossi che ha annunciato che diventerà papà insomma la compagna di Valentino dice che arriverà una bimba arriverà una bimba sei forte papà questo è il titolo ma c'è anche la cronaca in apertura con una tragedia no annega un noto consulente la vittima Alberto Andreani esperto di antinfortunistiche è anche docente che è stato inghiottito dalle onde del mare ai bagneri d'olfi a Pesero poi un'altra tragedia Cattabrighe aveva 61 anni scopre la visita dei ladri in casa chiama i carabinieri e si accascia a terra e muore lo vedremo tra poco nel racconto del giornale di questa mattina oggi arriva il presidente della Repubblica Pesero piazza blindata negozi chiusi bar solo su prenotazione e poi addio a Rosati costruì la barca per Lucio Dalla l'imprenditore marottese si è spento l'ospedale di Fonsombrone aveva 81 anni andiamo a vedere adesso il Corriere Adriatico sempre edizione di Pesero Urbino la terza dose inevitabile il Corriere questa mattina apre ancora con il covid il virologo Menzo dice prima i fragili poi toccherà tutti adesso è fondamentale chiudere il secondo ciclo rispetto a un anno fa il virus circola 13 volte più in fretta ma il freno dei vaccini limita ricoveri e decessi Rossi dottore diventa papà Tavuglia per Rossi si tratta del secondo annuncio nel giro di pochi giorni ma questa volta è senz'altro più lieto rispetto al ritiro dalla MotoGP diventerò papà dice lui insieme alla fidanzata e posta questa fotografia che insomma la dice tutta mentre fame di parcheggio a Pesero al Santa Marta più posti per gli hotel e sempre da Pesero Mecenate muore e dona al museo due opere d'arte andiamo adesso a vedere la pagina le pagine interne allora pagina 3 del Carlino tragedia in mare davanti ai bagneri Dolfi annega il noto consulente Alberto Andreani il suo corpo galleggiava 50 metri dalla riva poco dopo mezzogiorno vani soccorsi dei bagnini la guardia costiera e del 118 e il ricordo del professor Paolo Pascucci docente di diritto del lavoro d'Urbino perdiamo un prezioso collaboratore dell'università anche il Corriere Adriatico ne parla shock apponente annega davanti ai bagnanti per quasi un'ora hanno provato a rianimarlo la vittima un professionista e docente universitario Alberto Bebo Andreani di 71 anni ma sotto qui di taglio basso c'è ancora un'altra tragedia un'altra perdita un'altra vittima l'OIPA piange Simona l'amica degli animali la volontaria è scomparsa 52 anni inutili i soccorsi sciocche dolore per l'improvvisa comparsa di Simona Bertolucci sposate mamma avvenuta 52 anni per un improvviso malore la donna si è sentita male nella mattinata di martedì nel giardino di casa inutili i soccorsi e i tentativi di tenerla in vita la notizia è stata accolta con sgomento lei Simona la si vedeva spesso a passeggio insieme agli inseparabili cani e il suo amore per gli animali era una sua caratteristica innata si accorge che i ladri sono entrati in casa malore muore sotto gli occhi dei carabinieri questo è l'altro articolo sul Carlino di Pesaro di questa mattina la vittima Riccardo Pedini 61 anni aveva scoperto di essere stato vittima di un furto nella sua casa di via Sele a Cattabrighe ha chiamato i militari e durante i rilievi si è accasciato a terra inutili i soccorsi per lui non c'è stato niente da da fare Addio anche a Rosati costruì la barca a Lucio Dalla si è spento all'età di 81 anni all'ospedale di Fossombrone l'imprenditore marottese che frondò nel 67 il cantiere nautico azzurro c'è una particolarità che ricorda il giornale di questa mattina di questa imbarcazione cioè all'interno di questa barca da 21 metri il cantautore cioè Lucio Dalla aveva voluto all'interno una sala di registrazione la fiera di San Bartolomeo anche a Lido e così si libera parte di Viale Adriatico alberghi prigionieri del tradizionale appuntamento di fine agosto la proposta del presidente Cecchini la fiera di San Bartolomeo è uno degli eventi più importanti dell'estate fanese grazie anche alla sua atmosfera particolarmente vivace da una parte c'è dunque l'aspetto ecco come dire anche economico quindi con questa fiera che dà la possibilità a turisti e alle persone che vivono in città di partecipare come ogni anno a questo importante evento ma dall'altra ci sono gli operatori che ci lavorano lungo Viale Adriatico che con tutte le bancarelle sotto gli alberghi e con vengono penalizzati quindi bisognerebbe trovare una via di mezzo ma soprattutto c'è questa proposta adesso di Luciano Cecchini di spostare la fiera una parte della fiera anche a Lido così da dividere il carico e quindi vedere se è possibile questa questa cosa c'è un tratto del lungomare Simonetti dove si potrebbe allestire appunto una parte della fiera liberando quindi Viale Adriatico. Andiamo adesso invece a vedere quest'altra pagina di Fano invece del Carlino lasciata a piedi dal bus perché avevo il cane la protesta di una 27enne disabile costretta a camminare per 5 chilometri sotto il sole racconta lei eppure il regolamento vi dà ragione l'azienda dei trasporti con Ottaviane di Adriabus si difende l'interpretazione troppo restrittiva del concetto di taglia il taglia del cane sotto una certa taglia possono salire sopra invece no. Sempre dal Carlino di Fano tamponi boom ma il vaccino arranca farmacia doppia velocità a luglio 1200 test mentre le somministrazioni sono sospese fino a fine mese diciamo che c'è una enorme richiesta come evidenzia appunto il giornale di antigenici quindi di tamponi rapidi a Sant'Orso anche per questo famoso Green Pass ben 700 il mese scorso stesso trend ad agosto ma c'è ancora tanta gente che aspetta intanto il camper vaccinale a proposito della fiera di San Bartolomeo a Fano arriva arriva anche e stazionerà anche alla fiera questa tradizionale iniziativa legata a San Bartolomeo sposa la prevenzione ma da Senigallia invece basta poco per scatenare scatenare l'inferno non gettate i mozziconi di sigarette l'invito l'appello del vice sindaco Pizzi al senso di responsabilità dopo i danni dell'incendio di lunedì sera l'incendio che è divampato appunto probabilmente per questi mozziconi di sigaretta gettati così incautamente scatenando quello che abbiamo visto tutti quanti anche nell'immagine di Fano TV insomma tanta preoccupazione generando tanta preoccupazione e paura via Perilli spazzatrice divorata invece dalle fiamme siamo sempre a Senigallia ecco un'immagine dell'intervento dei vigili del fuoco sul lungomare appunto per spegnere questo mezzo che serve per pulire le strade rubano l'arredo e alcune sedie della pasticceria i titolari della San Martino dice non ci toglierete il lavoro e la nostra voglia di fare Valentino papà la gioia dei futuri nonni lui e Francesca raggianti e noi con loro arriverà in primavera la prima nipotina di Graziano Rossi e Stefania Palma ha dato un assetto completamente nuovo alla sua vita familiare e l'ha fatto con grande classe come sempre poi sulla congiura delle donne dice faremo del nostro meglio insomma Valentino Rossi con la fidanzata Francesca e dunque l'annuncio dell'arrivo di una di questa bambina mentre qua vedete Stefania Palma e sotto Graziano Rossi ma le felicitazioni arrivano anche dalla sindaca di Tavuglia sarà un ottimo padre si fa strada l'idea ancora di un museo sul doctor intanto lo sport con questa campagna shock del pallavolo nazionale questo l'avrete già visto sui social perché si sta si sta propagando si sta diffondendo è la rivolta contro le mini la mini riapertura è stata fissata la capienza al 35 per cento sugli spalti e quindi sale la protesta delle società con un volantino e un attacco al governo questa dicono le società di pallavolo è la nostra fine non si comprende come non si possa tornare alla normalità anche con il Green Pass e la presidente di Modena Volley dice migliaia di posti di lavoro da salvare e anche dalla Lube la Lube Civitanova arrivano segnali forti parla il vice presidente della Lube Albino Massaccesi che dice si potrebbe decidere di non scendere addirittura in campo e questo perché perché gli incassi sono a picco per il covid abbiamo avuto già perdite economiche gravi non possiamo reggere ancora così è chiaro che tra l'altro è uno sport dice sempre Massaccesi noi chiediamo l'estensione totale cioè che i palazzetti possano essere riempiti totalmente il calcio ha introiti enormi grazie ai diritti delle tv qui da noi però è diverso per la pallavolo non abbiamo ricavi così alti dalle dirette televisive e la presenza del pubblico è molto più rilevante a livello di bilancio e di sponsor locali il calcio vis nuova e giovane farò del mio meglio il portiere Farroni dice sono convinto che possiamo dire la nostra sabato ci aspetta subito il Modena ma noi siamo pronti e carichi il Fano invece che ha scelto il suo nuovo allenatore si tratta di Carmelino Gioffre che è una persona seria così come dice Enzo Agliano direttore tecnico dell'Alma che ha annunciato altri colpi a breve e conferma la volontà di avere ingranata ancora Giorgini insomma nonostante manchino ormai pochi giorni poche settimane all'inizio del campionato insomma l'Alma Juventus Fano sta facendo di tutto per presentarsi e disputare il campionato di serie di nel migliore dei modi la WL invece il basket WL trasferta a Carpegna adesso si fa davvero sul serio titolo del Corriere Adriatico squadra accolta con calore davanti a Palazzo dei Principi d'ora in poi due allenamenti al giorno vedete qui la preparazione si è cominciato con la parte atletica poi si proseguirà con la palla in attesa di Camara Moretti e del Pivò insomma qui lo vedete con la squadra i dirigenti con il sindaco con l'amministrazione comunale di Carpegna insomma ci si sta preparando per questa nuova stagione di sport intanto noi ci fermiamo qui la rassegna è finita torna domani mattina alle 7 questa sera alle 20.30 c'è invece il telegiornale occhio alla notizia grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie per aver guardato il video